Un'altra cosa, qui succede, io mi diceva l'acqua minerale, noi compravamo, io e i geni miei quando mi hanno detto di comprare l'acqua minerale, mentre prima beveva per dire la zona locale dell'acqua minerale nostra, non voglio fare nomi, non l'ho bevuto più, beveva le vissime, quelle che vieno dalle Alpi, lui vede che veniva a Pisa. Grazie a tutti.